Continuiamo gli interventi anche con la raccolta di esperienze, quindi chiamo a parlare Antonio Fini, è dirigente scolastico e ha insegnato a lungo anche collaborando con il Laboratorio di Tecnologie e dell'Educazione dell'Università di Firenze, si occupa soprattutto di risorse aperte, di social media e quindi lascio a lui la parola. Prima di fare il dirigente scolastico, naturalmente perché è ovviamente un lavoro che non lascia molto spazio per altre divagazioni. Buonasera a tutti, io naturalmente sono anch'io e ringrazio anche per l'invito e per aver avuto l'occasione di essere presente a questo convegno. Sono in questo momento quello che fa un po' il guastafeste, in tutte le occasioni ci vuole sempre uno che mette un pochino di un lato non del tutto positivo. I colleghi, e anche stamattina abbiamo sentito altre bellissime esperienze, io porto una non esperienza, potremmo dire. Io faccio il dirigente scolastico dall'anno scorso, sono entrato in un istituto comprensivo nella provincia della Spezia, quindi qua vicino. Un istituto strutturato su 14 plessi, su due comuni in zona di provincia e anche togliendo i plessi di scuola dell'infanzia rimangono comunque tre scuole medie e sei scuole elementari. Allora, che cosa ho cominciato a fare io in questa scuola? Ho cominciato semplicemente a organizzare le comunicazioni, una cosa banalissima. In una scuola di questo tipo non si riesce a comunicare banalmente, quindi ho impiantato, con l'aiuto di un'insegnante molto brava che ha curato il sito web, due metodi di comunicazione, ora potranno sembrare banali, un sito web e un sistema di posta e di applicazioni interne, che sono le Google Apps for Education, per cui abbiamo avviato un lavoro sulla parte infrastrutturale, potremmo dire, sulla parte di base. E questo è un lavoro che ho iniziato l'anno scorso, ho fatto io personalmente la formazione a proposito di costi e risorse. L'anno scorso alcuni insegnanti preoccupati di aver visto tutto questo impianto mi hanno chiesto, preside, ma quanto costa? Dove l'ha trovati? Anche erano RSU, quindi i rappresentanti di sindaca, mi hanno detto, ma quanto costa tutto questo sistema che ha messo in piedi? E io ho detto, non costa nulla, ho trovato queste risorse, sono gratuite e la formazione, come vedete, la sto facendo io. Allora, tutto questo cosa c'entra con i libri di testo e in generale con la didattica? Secondo me c'entra molto, perché questa mattina anche il Ministro stesso ha detto, dobbiamo ripartire dagli insegnanti, dalla valorizzazione degli insegnanti. Ecco, allora, se, così, io poi mi ero anche appuntato due o tre frasi, poi se ho tempo magari riesco a recitarle, diciamo. Prima di venire qui ho chiesto agli insegnanti, visto che ho l'email, ho fatto una bella email, e parecchi mi hanno risposto. Cosa ne pensavo? Ho detto, guardate, vado a questa occasione, cosa ne pensate? Mi hanno dato qualche risposta anche abbastanza significativa. Allora, se io dovessi chiedere, dovessi dire, ma quali sono i due punti fondamentali sui quali occorre investire in questo momento? Beh, non ho dubbi, noi abbiamo bisogno di un investimento forte sull'infrastruttura. Noi abbiamo bisogno di avere, posso dire, non solo tutte le aule cablate o connesse in internet, tutte le case. Perché questi bambini, quando vanno a casa, come fruiscono? Va benissimo, stamattina abbiamo visto bellissime piattaforme, ma come ci accediamo a queste piattaforme? Ma non solo da scuola, anche da casa. Quindi questo è il primissimo problema. Poi qualcuno potrebbe dire, come dire, sempre nell'ottica del cosiddetto benaltrismo, che ci sono altri problemi. Lo so, e da dirigente scolastico lo so benissimo. Abbiamo famiglie che hanno problemi a pagare la retta della mensa. Lo sappiamo che ci sono tantissimi problemi, ma ora qui ci stiamo occupando del settore della digitalizzazione. Allora, in questo settore per me il prerequisito è la infrastruttura di rete. Noi dobbiamo, in questo paese, direi, sistemare l'infrastruttura di rete, anche per rompere questo circolo vizioso, per cui siamo un paese arretrato perché non siamo connessi o non siamo connessi perché siamo un paese arretrato. In ogni caso, qui va messo un taglio. Quindi, a questo proposito, i problemi non sono così, anche qui, ben definiti. L'istituto comprensivo, accanto al mio, sta avendo, per esempio, grossi problemi con la wireless. Perché i genitori, in qualche modo, magari utilizzando fonti di informazione, non sappiamo quanto validate a proposito di validità dell'informazione, hanno influenzato il consiglio di istituto che ha decreto, che ha deliberato, che in quell'istituto non dovesse essere impiantata una rete Wi-Fi. E quindi non è semplicissimo nemmeno quando ci sono le risorse, figuriamoci quando non ci sono. Quindi, prima cornice è la infrastruttura, secondo la formazione degli insegnanti. Questo direi che è una banalità, però, attenzione, formazione degli insegnanti non può significare altri megapiani ministeriali. Credo che dal primo PNI siano passati circa 30 anni, abbiamo visto i vari Fortic, 1, 2, 3, 4, 5, ne abbiamo viste di tutti colori, io ho anche partecipato da insegnante, sia come formatore, sia come discente, diciamo così, e abbiamo visto che non funziona. Secondo me qui è una cosa banalissima, sia semplicemente nel mondo della scuola consentito che tutto un mondo, che è il mondo delle tecnologie, il mondo, diciamo così, del digitale, fosse un mondo a parte, fosse un mondo che non riguardava la scuola. Quando noi sappiamo benissimo che in qualunque ufficio, che in qualunque unità produttiva, diciamo così, di questo paese troviamo banalmente una connessione e un computer, e chi ci lavora li usa in maniera abbastanza, diciamo così, disinvolta. Nella scuola, credo di parlare soprattutto a persone di scuola, sappiamo bene che c'è ancora qualcuno, vabbè, lo dico, che si fa un vanto di non saper usare il computer? Bene, perfetto. Allora, questo cosa implica? Implica una cosa importantissima che è stata detta, mi pare, dalla professoressa Bardi stamattina, non la vedo più, ecco, sul fatto che noi dobbiamo aiutare i nostri ragazzi a sviluppare una delle competenze, scusate, tutte e otto le competenze chiave, ma ora accendo un faro su una, che è la competenza digitale. Stamattina sono state nominate le otto competenze chiave UE. Benissimo, ce n'è una che si chiama competenza digitale. Mi dite questi ragazzi come potranno svilupparla se gli insegnanti a loro volta non la possiedono? Questo comporterà, secondo me, un aggravarsi del divario digitale, perché, e questo non lo dico io, ma lo dice l'Ocse, il principale fattore di differenziazione negli apprendimenti scolastici è il background socio-culturale. A questo punto noi avremo un acuirsi di questo problema, perché chi ha le possibilità e chi ha la famiglia, chi nasce in una certa cornice, avrà le possibilità, ma la scuola non farà la differenza. Quindi io vedo questa come emergenza. Se i libri digitali, se l'editoria in generale, il rinnovamento dell'editoria scolastica, contribuirà a questo tipo di cambiamento, allora benvenga, ma veramente, cioè lavoriamo in tutti i modi e in tutti i sensi, perché noi abbiamo uno straordinario bisogno, secondo me, nella scuola di incidere in questo campo. Perché qui, in questo momento, sono in atto due credenze. Una, la credenza che i ragazzi siano già abili. È vero, sono abili, diciamo, in maniera, come dire, esclusivamente, diciamo, strumentale. Ecco, sanno utilizzare gli strumenti. Roberto, stamattina, pollicina, giusto? Ecco, usano questi pollici, magari anche l'indice, in maniera straordinariamente rapida, è vero. Ma non sanno nulla di, per esempio, di tutto quello che riguarda la valutazione delle fonti. Anche stamattina è stato detto, io non voglio che usino studenti.it piuttosto che Wikipedia. Ma Wikipedia, perché, per esempio, una bella attività sarebbe non utilizzare Wikipedia come ricerca, ma come autori. Sul territorio, benissimo, scriviamo una pagina sul nostro paese, su una risorsa del nostro paese. Mi dite in quale materia, a quale materia corrisponde tutto questo. Quindi è ovvio che la struttura della scuola deve necessariamente cambiare. Ma non, secondo me, perché entrano i libri digitali o non entrano. Perché dobbiamo dare una risposta a questa esigenza, altrimenti, secondo me, il ruolo della scuola viene un po' a mancare. Non so quanto tempo ho ancora, ancora qualche secondo. Bene. Allora, per andare verso la conclusione, mi sono portato anch'io un libro, che è un libro scritto da una ricercatrice dell'Università di Firenze, ed è dedicato proprio a fare un po' un punto sulla ricerca educativa nel campo delle tecnologie. Purtroppo la ricerca educativa è uno di quei campi, come dire, c'è una citazione che si dice scienza difficile da fare, cioè la chimica, la fisica, sono scienze in qualche modo facili, perché l'esperimento è facile da realizzare. Nel campo, in generale, delle scienze sociali e dell'educazione è molto più difficile. Allora, da una parte noi abbiamo un corpo di credenze, di miti, che si perpetuano. Uno lo conosciamo tutto, le nuove tecnologie. Ma com'è che queste tecnologie sono sempre nuove? Ma com'è possibile quando il primo personal computer è apparso tra noi più di 30 anni fa? Quando internet esiste, quello commerciale, da quasi 20 anni, eppure parliamo di nuove tecnologie, poi parliamo di altre, ne potrei citare altri. Ebbene, questo libro, diciamo, mi piace anche recitare il titolo, perché si chiama Le insidie dell'ovvio. Cioè abbiamo tutta una serie di credenze e di miti all'interno, un po', del, diciamo, in generale del mondo dell'educazione, per quanto riguarda le tecnologie, che probabilmente vanno un po' sfatati. E secondo me il modo migliore per sfatarli è proprio quello di mettere gli insegnanti nelle condizioni, però devono volerlo anche loro, intendiamoci, non può essere un qualcosa che arriva dall'alto. Deve essere sentito a questo punto come un bisogno, un bisogno che riguarda la propria professionalità, perché non si va a insegnare italiano, non si va più a insegnare matematica, non si va più a insegnare educazione fisica. Tra le varie cose che si vanno a insegnare, anche se so benissimo che le competenze non si insegnano, ma si creano le condizioni perché gli studenti le sviluppino, ci sono anche queste, che riguardano tutto un mondo che la scuola non può più ignorare. Questi sono un po' temi, e qui c'è Roberto Maragliano, quindi mi vergogno a dirle io queste cose, ma sono temi su cui lui stesso lavora da decenni, un po' quella dell'educazione ai media in generale, un qualcosa che nella scuola, come ben sappiamo, è quasi o clandestina o comunque non prevista, diciamo così, nemmeno forse dalle più recenti indicazioni nazionali. Quindi concludo così, con la speranza che sia possibile trovare un modo soprattutto per sciogliere questi due nodi che io trovo fondamentali, l'infrastruttura, senza la quale tutto il resto non ha senso, e un nuovo modo di concepire il ruolo di insegnanti. Grazie. Allora, abbiamo concluso il primo blocco di presentazioni con esperienze, direi abbiamo avuto due tipi di interventi, quindi due esperienze sul campo, una orientata a usi creativi dei dispositivi, delle risorse in maniera assolutamente trasversale, l'altra con una FAD dove appunto mi è sembrato grandissima attenzione dedicata alla qualità dei contenuti, alla validazione dei contenuti, quindi è anche il tema del realizzare grandi progetti a basso costo, e poi abbiamo sentito all'inizio un po' il guastafeste, cioè le problematiche che sono invece collegate davvero con l'attuazione di questi progetti, quindi infrastrutture e anche il rischio di questo divario digitale se non si pone attenzione alla valorizzazione degli insegnanti.